Se uno legge il primo testo nato nel mondo occidentale, cioè l'Iliade di Omero, si accorge che prende avvio da una rissa tra personaggi di rango regio, Agamennone, Achille, una rissa brutale tra questi individui per la proprietà di una schiava, per esempio, bottino delle razzie che l'armata capeggiata da Agamennone ha compiuto nel territorio circostante la città di Troia. Perché? Perché questi invasori Achei hanno dovuto occupare un territorio per mettere l'assedio a questa città imprendibile e per sopravvivere, cioè per trovare forme di sostentamento occupando terreni, impadronendosi del bestiame, razziando schiavi. Ecco, questo è il quadro. Per cui già quel poema che racconta un episodio storico risalente molto indietro nel tempo, a vari secoli prima di Omero stesso, già quello ci introduce in una situazione in cui la schiavitù è un elemento essenziale. Quando la rissa finisce in malo modo e uno dei due guerrieri si ritira sotto la sua tenda, l'altro si rende conto che la guerra potrebbe andare male perché quello è un guerriero molto bravo e gli offre qualche decina di schiave per risarcirlo e indurlo a tornare. Quindi lo schiavo è continuamente protagonista passivo e vittima di una situazione conflittuale, non solo di una guerra in atto, ma di una guerra tra i capi dello stesso campo belligerante. Dicevamo risalente molto nel tempo, noi possiamo immaginare con qualche fondamento che questo poema sia stato messo per iscritto nell'ottavo secolo avanti Cristo, ma almeno tre secoli prima si svolgeva la guerra di cui quel poema parla e di cui parlano poi tanti altri poemi che non abbiamo più. Quello riguarda un breve tratto, un segmento della guerra durata dieci anni. Ma dopo gli anni 50 del 900 sono venuti fuori altri documenti che non erano facili da decifrare, le famose tavolette micenee nella scrittura lineare B, cosiddetta, decifrata da un grande archeologo inglese che si chiamava Shadwick. Nel lineare B l'archivio, potremmo dire, di uno stato greco della Messenia, dove c'è il peloponneso occidentale. In questo archivio ci sono essenzialmente documenti materiali, elenchi di prodotti e fra l'altro tra i prodotti viene fuori una parola che è doero. Siccome quella è un greco scritto con un altro alfabeto, doero è l'equivalente di dulos, cioè schiavo. Quindi abbiamo una proiezione all'indietro della schiavitù, addirittura in una documentazione d'epoca micenea. Del resto, quando il famoso incontro che si legge nell'Iliade tra Ettore, eroe sfortunato, e Achille, si parla del destino che il soccombente avrà. L'incontro di Ettore con sua moglie Andromaca ha come oggetto la previsione della schiavitù. Cioè lui dice, non mi duole tanto il fatto di morire in questa guerra, ma quanto la certezza che tu diventerai schiava di un re miceneo, traduciamo in parole più semplici. Quindi la schiavitù incombe come problema. Ma i moderni, gli studiosi moderni, rispetto al fenomeno della schiavitù antica, come si sono atteggiati. Sarebbe un bel problema da trattare in maniera monografica, ma scegliamo alcuni esempi soltanto. Per lo più la tendenza, diciamo così, idealizzante della cultura nostra, moderna, di coloro che si occupano del mondo antico, ha avuto il capriccio, potremmo dire, o l'inclinazione a rimuovere quell'elemento, a lasciarlo nello sfondo, ammirando le grandi realizzazioni architettoniche, letterarie, filosofiche, eccetera, della cultura antica. La schiavitù non si vede, ma rimane nell'ombra. Altri più, diciamo, realistici nel considerare quella realtà ne hanno parlato, l'hanno affrontata di petto, per così dire, in maniera sconcertante, esaltandola, teorizzando che era un indispensabile passaggio per avere quella grande civiltà. potrei ricordare un paio di sortite in proposito. C'è uno scrittore francese noto come grande esponente del liberalismo europeo, si chiamava Benjamin Constant, in un suo discorso famosissimo pronunciato nell'anno 1819, la libertà degli antichi, libertà dei moderni, a un certo punto dice senza gli schiavi 20.000 ateniesi non avrebbero potuto deliberare tutti i giorni nella pubblica piazza. Un'espressione piuttosto brillante, a parte la cifra 20.000 che è piuttosto interessante e sostanzialmente anche veridica, è interessante la considerazione che la libertà dei cittadini ateniesi che esercitano la democrazia radunandosi in piazza prendendo decisioni, la loro libertà di agire, di pensare, di operare, di incidere si basa sul fatto che c'è una immensa realtà sottostante di persone non riconosciute come persone. Senza gli schiavi 20.000 ateniesi non avrebbero potuto deliberare tutti i giorni in pubblica piazza. Qualche anno più tardi, potremmo dire esattamente una quarantina d'anni dopo, alla vigilia della guerra di secessione negli Stati Uniti d'America, che fu la più sanguinosa delle guerre combattute dagli Stati Uniti nel secolo XIX, dura vari anni, culmina con la sconfitta del Sud da parte degli Stati del Nord, la posta in gioco è per l'appunto la conservazione o la cancellazione dell'istituto della schiavitù che negli Stati del Sud dell'Unione è molto presente, anzi è la forma normale di produzione. Senza dubbio, un episodio non bello, potremmo dire, ma molto significativo, alla vigilia di questa terribile guerra, un teorico del sudismo che si chiamava Thomas Cobb 1859, dice lo schiavismo è un elemento essenziale di una vera repubblica per preservare una perfetta uguaglianza tra i cittadini e per far crescere e incoraggiare lo spirito della libertà. Egli ragiona come un atteniese del V secolo avanti Cristo ritiene che sia indispensabile una massa di schiavi, ma stiamo parlando del 1859, perché i cittadini di pieno diritto, come dicono i giuristi, pleno iure, possano esercitare in pieno la loro libertà. Anzi, durante la guerra di secessione negli Stati Uniti d'America fu adotto come esempio positivo, tale da dover giustificare la realtà schiavistica degli Stati del Sud e dell'Unione, il modello ateniese. Il vicepresidente degli Stati Uniti all'epoca, che parteggiava per i sudisti, parlava di modello ateniese a Charleston, come a dire quella è la immediata realtà alla quale ci richiamiamo e in nome della quale difendiamo questa istituzione. Aggiungiamo ancora un altro esempio interessante della riflessione moderna su questo fenomeno e mi riferisco ad un altro scrittore di area anglosassone inglese questa volta che si chiamava Cornwell Lewis grande dotto uno che ha tradotto in inglese opere importanti della filologia tedesca scrive un dialogo molto interessante che qualche anno fa fu pubblicato in traduzione italiana dalla casa editrice Sellerio qual è la migliore forma di governo sempre un dialogo platonico che è modellato sui dialoghi di Platone e i tre interlocutori svolgono il ragionamento a sostegno della monarchia o dell'aristocrazia e uno dei tre sostiene la repubblica la forma democratica e viene confutato subito perché lui dice sostiene che la repubblica è possibile è un'attuazione non inverosimile di un principio politico perché ci sono gli Stati Uniti d'America e viene immediatamente rimbeccato dagli altri due del dialogo con l'argomento ma voi avete lì una forma di repubblica perché avete gli schiavi senza gli schiavi non potreste tenere in piedi un regime cosiddetto democratico quindi diciamo i moderni nel secolo XIX avevano la percezione della schiavitù non come di un fatto remoto da studiare sulle fonti antiche greche e romane ma come di un fatto vivente di un fatto reale al quale far capo e rispetto al quale prendere posizione e i difensori dell'istituto della schiavitù in epoca moderna appunto metà del secolo XIX furono tantissimi diciamo ancora un altro dato che può essere significativo il primo tentativo di abrogare la schiavitù come modello giuridico avviene durante la rivoluzione francese esattamente nel febbraio del 1794 quindi c'è ormai la convenzione c'è la repubblica già dal settembre del 92 per iniziativa di alcuni deputati alla convenzione nazionale che il parlamento eletto appunto nel settembre 92 capeggiati da uno dei leader della rivoluzione che si chiamava Danton Georges Danton che propone fa passare l'abrogazione della schiavitù nelle colonie francesi le molte numerose popolose colonie francesi nelle Antille e questo passa con entusiasmo i deputati c'è un deputato che viene dalle Antille viene abbracciato un fratello l'uguaglianza i diritti dell'uomo proclamati già nel 1791 gli uomini nascono e restano uguali nascono uguali quello è facile restano un po' più complicato ma la norma diventa inefficace perché nel frattempo le colonie francesi sono state occupate dalle truppe dalla flotta inglese che è presente nell'area delle Antille approfitta del disordine a Parigi della rivoluzione dei conflitti tremendi la lavandea che si ribella eccetera per occupare le colonie francesi e impedire l'abrogazione della schiavitù l'Inghilterra liberale a casa sua non è molto liberale nelle sue colonie o nelle colonie altrui come in questo caso peraltro quando alla fase diciamo così repubblicana subentra l'impero in buona parte si fa primo console console a vita e poi imperatore dal 1804 apertamente ripristina la schiavitù in colonia cosa che gli fa perdere molte simpatie di persone che erano legate ai principi della rivoluzione per cui questo primo tentativo a cavallo fra fine settecento inizio ottocento di cancellare nel mondo coloniale l'istituzione della schiavitù fallisce fallisce perché l'iniziativa francese è vanificata e lo stesso leader diciamo così della Francia post-livoluzionaria ne prende atto e quindi la schiavitù continua a vigoreggiare si ripropone e passano parecchi anni 1848 la seconda repubblica francese che ha da capo il problema della schiavitù davanti nelle colonie francesi e nell'assemblea nazionale eletta nel febbraio del 48 una parte del parlamento di questa assemblea nazionale ripropone l'abrogazione della schiavitù e questa finalmente viene varata con una legge che rappresenta un modello di saggezza giuridica nel secolo XIX con effetti relativamente limitati per la difficoltà poi di applicare in concreto queste norme tant'è vero che poi nel grande paese dell'America settentrionale cioè negli Stati Uniti qualche anno dopo una decina d'anni dopo la decisione della seconda repubblica francese di abrogare la schiavitù una decina d'anni dopo scoppia il conflitto di cui ho parlato prima tra sudisti e nordisti che sanguinoso dura anni e si conclude con un'abrogazione della schiavitù sul piano puramente giuridico il passaggio dal sancire questo principio ad applicarlo è piuttosto lento e studiosi moderni studiosi novecenteschi di questo problema ma mi riferisco per esempio a un notevole studioso americano i cui libri furono tradotti in Italia presso l'editore in Audi negli anni settanta del secolo scorso si chiamava Eugene Genovese di origini italiane hanno messo in luce un elemento che forse sfugge perché giustamente si esalta Abramo Lincoln che ha voluto fortemente l'abrogazione della schiavitù e ha pagato con la vita perché è stato ucciso poi da un sudista che voleva vendicare il sud e lo ha ammazzato come può ammazzato anche Kennedy negli Stati Uniti poi le armi si usano con una certa frequenza e talvolta colpiscono molto in alto con buona pace del coraggio di Lincoln nell'attuare questo principio dice Eugene Genovese in realtà la schiavitù andò lentamente declinando non tanto o non soltanto per la difficoltà di rendere operativa questa scelta ma anche perché nel frattempo l'America settentrionale diventava man mano a prodo di spinte migratorie fortissime dall'Europa dalle parti più povere dell'Europa Irlanda Italia eccetera e questa nuova forza lavoro libera formalmente dal punto di vista giuridico ma in realtà di fatto subalterna finì col sostituire soppiantare come novità nel rapporto produttivo la vecchia dipendenza delle piantagioni del sud degli Stati Uniti dove la schiavitù si era largamente insediata ed era diventata parte integrante di un sistema di vita di tipo arcaico durante la polemica tra sudisti e nordisti la pubblicistica nordista ovviamente pone l'accento sulla iniquità della schiavitù come dipendenza personale la pubblicistica sudista a parte i richiami al mondo antico Atene Atene a Charleston va bene pone l'accento su un altro aspetto piuttosto inquietante e cioè pone l'accento sul fatto che il rapporto della schiavitù nelle piantagioni tra schiavo e padrone è un rapporto ovviamente di subalternità talvolta ferocemente punitivo quello che vogliamo ma è anche di tipo paternalistico il modello perciò si richiamavano ai modelli antichi la villa romana la fattoria descritta dal vecchio Catone per esempio nel De Agricoltura in cui lo schiavo è schiavo certamente ma fa parte della famiglia il termine famiglia in latino indica non soltanto i componenti diciamo consanguinei del padrone o del pater familias ma anche gli schiavi che fanno parte di questa unità diciamo produttiva familiare se vogliamo anche affettiva talvolta i pubblicisti del sud insistono sul fatto che c'è un elemento umano in questa realtà arcaica ovviamente calcano la mano su elementi e tacciano di altri elementi mentre invece il rapporto di dipendenza capitalistico che nel nord progressivo industriale si sta ormai affermando e che si potenzierà con la corrente migratoria che viene dall'Europa è un rapporto molto più feroce i pubblicisti del sud dicono un operaio di fabbrica a 40 anni è un uomo finito ha un orario di lavoro stressante tremendo 12 ore al giorno lavoro minorile nessuna garanzia sindacale quindi lo schiavo se invecchia e diventa inabile rimane nella famiglia e bene o male sopravvive più o meno dignitosamente l'operario di fabbrica viene buttato via e ne arriva un altro quello che nel capitale di Karl Marx viene chiamato l'esercito di riserva cioè il fatto che c'è una tale richiesta di poter offrire vendere la propria forza lavoro che se qualcuno non ci sta non accetta per esempio il salario umiliante non accetta il ritmo di lavoro stressante va via e ne viene un altro con stiamo parlando di un momento della storia del capitalismo moderno in cui le garanzie del lavoro sono minime non vengono sancite in modo legislativo da nessuna parte un grande personaggio dell'ottocento tedesco di origine ma insediato in Inghilterra dove aveva anche le sue risorse industriali e mi riferisco a Engels il grande amico di Marx prima ancora della pubblicazione nel 1867 di questo libro molto importante il capitale Das Kapital scrisse invece una inchiesta sulla condizione del lavoro in Inghilterra è un saggio scientifico di moltissime pagine pieno di statistiche di dati di fatto in cui descrive in concreto la condizione dell'operaio di fabbrica nell'Inghilterra avanzata progredita che è in un certo senso il modello del Nord America stati del Nord ed è non dico soltanto una denuncia ma anche una descrizione scientifica di una realtà inquietante sul piano abitativo sul piano sanitario sul piano alimentare quindi epidemie morti precoce promiscuità difficoltà di spostamento nessuna garanzia sugli orari di lavoro descrive in maniera molto scientificamente fondata una realtà che la pubblicistica americana sudista additava come l'alternativa peggiore rispetto all'arcaismo della schiavitù nelle piantagioni tutta questa premessa che ho voluto farvi richiama in realtà senza forzature una dicotomia una differenza che è presente nella schiavitù della realtà antica della realtà del mondo mediterraneo a dominanza greco-romana o ellenistico-romana quanti erano e questo è certamente il problema principale quando si parla della schiavitù cioè cercare di capire se è una realtà relativamente marginale è una realtà essenziale è una realtà numerabile ecco su questo punto abbiamo qualche indicazione del mondo antico sporadica ma molto significativa un libro di un autore egiziano di origine egiziana ma di lingua greca che viveva nella città egiziana di Naukrati alla fine del secondo secolo dopo Cristo si chiamava Ateneo ha scritto un'opera in 15 libri molto ampia intitolata I dotti al banchetto cioè è un dialogo tra personaggi fittizi i quali parlano di tutto parlano della poesia della commedia delle istituzioni del cibo dei pesci delle grandi etere dell'Atene classica ma anche degli schiavi uno di loro dice ma nel mondo greco ci sono delle cifre impressionanti Atene luogo spirituale sommo che ci commuove continuamente aveva nel 316 avanti Cristo quando fu fatto un censimento dal parte del personaggio un leader della città protetto dai macedoni che si chiamava Demetrio Falereo fece un censimento nell'anno 316 questo censimento dette un risultato 20.000 cittadini di pieno diritto perciò Constant che vi ho letto all'inizio dice 20.000 Atenesi andavano in piazza tutti i giorni 10.000 stranieri residenti cosiddetti meteci i quali sono liberi come condizione civile ma non partecipano alla vita politica della città non ricoprono cariche pubbliche però pagano magari un po' di quattrini per dare una mano alla città ed avere una benemerenza rispetto alla città e 400.000 schiavi la cifra è piuttosto imponente intanto facciamo subito un calcolo che quando si dice 20.000 cittadini vuol dire maschi adulti in età militare ognuno dei quali appartiene a una realtà diciamo familiare da moltiplicare per quattro mediamente per cui non sono 20.000 ma saranno 80.000 le persone di condizione libera maschile femminile infanti eccetera e questo già accorcia le distanze laddove gli schiavi vengono computati senza distinzioni come gli animali dall'altra parte lo schiavo andrapodon è modellata su tetrapodon tetrapodon è l'animale con quattro gambe l'andrapodon è schiavo ed è con due gambe essendo antropomorfo è brutale tutto questo ma è caratteristico di quella realtà remota arcaica spietata a suo modo che quei teorici entusiasti della schiavitù come Cobb che ho ricordato prima o come Friedrich Nietzsche che ha teorizzato non solo un riferimento al passato ma al presente che la grande produzione intellettuale esige che ci siano gli schiavi ed è significativo che un teorico di questa indistinzione tra gli esseri umani respiriamo tutti con il naso e con la bocca e quindi il barbaro il greco lo schiavo il libero sono indistinguibili è un personaggio che si chiamava antifonte sofista retore oratore tragediografo uomo politico il quale è il promotore del colpo di stato oligarchico nell'Atene del 411 disistimatore del sistema democratico ateniese il cui pilastro come abbiamo detto più volte nel corso di queste nostre chiacchiere è la separazione fra liberi e schiavi i liberi sono tali perché c'è una massa di schiavi antifonte teorico della indistinzione tra liberi e schiavi critica la democrazia ateniese fondata sulla schiavitù di schiavitù